sono venuto qui alla pioneer tower che si trova nel quartiere residenziale con la vista sull'apollo penso sia l'apollo tower però non sono sicuro questa è la pioneer tower per incontrare mamma e papà così come dalla così come dalla nota lasciatemi mi ha lasciato la nota lì alla pioneer tower cioè alla lodge l'ha consegnata a noel non so che ci sono già passato per caso insomma un condo di lusso ecco che cosa gli perché cosa pago per fargli stare qua beh sono un po emozionato devo dire signora lei che piano va lo sa che va agli appartamenti delle famiglie voglio vedere se adesso la signora è scomparsa quando si apre l'ascensore e infatti e quindi dove devo andare piano piano ho detto piano ci sono varie porte sono abbastanza emozionato ci sono due porte in ogni piano due appartamenti per piano però caspita vivono nel lusso vabbè allora bussiamo non è il mio padre non è il mio padre Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? Come again? Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke? My child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great things. Oh, say again? I should record that and play it back. Mom, you were right. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known I'd have your favorite meal in the oven, and your room is just a mess. Although that's how you left it. Easy, honey. Let the boy catch his breath. Why don't you settle in? You know you're always welcome. Updated. C'è anche la mia vecchia camera. No, questa immagino sia la vostra. Questa è la mia vecchia camera. Football. Football. La piramide con l'occhio. X-Sips. Ma scusa un attimo, non ci sono le porte. Ah, ci sono. Questa è un attimo nella mia stanza. My school backpack. I mean, I want to watch it sometime. I want something light. Upbeat. Well, I made a suggestion. Why don't you make one? I, uh, was thinking, maybe, muzzle in me? The kid movie? What? That little Ashto cracks me up. And it's just... Cute. Funny. You never cease to amaze me. I, uh, I old My puppy. Un Python. Uh, uh, uh. I, uh, uh. I, uh, i miei giocattoli. Uh. fantastico i miei scarabocchi alla lavagna semi matematico geometrici trigonometrici e g love legione di cercare di interpretare sempre che sia possibile magari sono citazioni o skin skin cream bottle backpack new backpack good as new there's so many pockets in there no apple and well it's clean now on the market no grazie mamma lo prendo il mio backpack is cool frigo facciamo una foto eh quanti bei ricordi e qua dietro cosa c'è non c'è roba anche qui dietro non si apre c'è roba qui dietro eh regina la presidenta oh i know all about her well she's making me redo the whole report from scratch because she gave me the wrong information you worked on that for days i know i swear next election i'm stepping down i can't stand her are we looking for solutions or sympathy what oh what's this about fred from the poker group said ninety percent of all marital strife would go away if you just know whether you need to offer help or a friendly ear fred's a wise man i suppose sympathy then that regina is a monster there oughta be a law damn straight hmm i still can't get over you being here and it's not even mother's day so i gotta ask is there anyone special in your life if you're being in constellation now i imagine you are quite the catch just so you know your dad cannot wait to be a grandpa so don't keep him or me waiting too long i know i know i won't get into more right now i know you didn't live in this apartment long but i want you to consider this your home away from home your bed is always yours no questions asked i mean well i will ask questions but you can stay here no matter the answers it's complicated maybe one day i'll get into it but neither of us mind moving i think we both have a bit of nomad in us i think though new atlantis is our forever home no bother it all stay as long as you like anything you want to talk about dear oh ain't that the truth with both of our pensions we still couldn't afford it but with what you send home wow i see now ragazzi però the places we've lived new atlantis is just so full of culture and life now that we're both retired you mean i i keep trying to push your father to do things dance lessons vacation take some courses i'm really interested in early colonial art but he's just happy as a clam reading in his chair for hours wants to know the history of every little thing it's nice to have time to do both though one of your old classmates made junior vp at galbank their father was bragging for hours can't wait to tell him about constellation ok you're welcome anytime and i mean anytime sentiamo che deve dire bah flamenco what? fl-who? flamenco or we could do salsa i told you my left feet have left feet the activity will do you good but dancing i mean couldn't we i don't know do oh yes anything all right dancing it is but something beginner friendly like fit for a toddler i've got lifetime's worth of books and videos to occupy me so don't worry about me hmm i still can't believe it constellation the stories make them seem so exotic so well romantic almost how is it for real you liking it it's funny how you can live years days all blend together but then out of the blue whammo everything's different i've got some news of my own you are now officially looking at a retiree taught my final class last thursday the faculty threw me a party and everything it's too bad you weren't here then you could have had some cake hmm i had bigger dreams at one point but when push came to shove i didn't want to compromise my values and there's real nobility in teaching well that's what i told myself enough about that anything you want to talk about before you have to go i mean stay stay as long as you like but i imagine you're all excited to get to discovering i've told you before you don't have to i mean don't get me wrong lord knows we appreciate it but we got by just fine before you landed that job with argos extractor i won't lie this apartment new atlantis i mean there's no way we could afford to stay here without you but we can find someplace cheaper no doubt we'll manage not for a long while no a move like we're talking takes time as soon as we get settled we'd love to have you over but it could take a long long time take all the time you need and please we don't want to be a burden if you can't afford it we'll get by where's the tissue baby i knew where it was top shelf of the pantry but it's not there anymore how do you expect me to know where anything is if you keep moving around the house all day you should get some exercise ma alla fine and how is that worked out we are going for a walkway c'era scritto dicevano che lasciavano a noi capire come rimuovere questi tratti ma di fatto c'è c'è l'opzione lì nuda e cruda senza tanti giri non c'è niente tanto da capire vabbè vedrò ho parlato con i genitori direi che adesso è l'ora di andare alla constellation torniamo verso la loggia l'ora di parlare con sarah apollo tower è quella ok allora quella sarà semplicemente l'attore della uc so after an hour of whining they're finally out here they're just sitting on the tracks non so che si potesse andare anche da lì ma andiamo distretto distretto diplomatico passare anche da qua mi sa reline medical si ok 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 andiamo a parlare con sarah adesso l'altro c'era scritto che mia ma quella è mia mamma ho visto ancora vabbè adesso sto un po' esagerando però non esagerate cos'è che ha lasciato mamma cos'è che ha lasciato mamma not from mamma direi scunia anche il cognome met ti sei importante e ti sei facile tu sei tu sei molto mi piace se ti visitassi eh ah cioè se dovessi se visitassi di nuovo ma sono appena uscito come hanno fatto beh se so sono assurdità questo ma dai mi siete affiondati appena dalla finestra appena sono uscito si? ho avuto alcuni video di quando ero 12 in mia costellazione halloween è davvero assurante ma ho trovato il space così affascinante che ancora c'è molto che non sappiamo credo che ancora trovo questo modo non so se ne vedo se dovrò andare così far ma io lascio il padre parlare before he burst io stavo giocando polca con il Presidente di inwisorio e il servizio ha avuto il prezzo di questo ho avuto l'avuto e quando si chiede che stavano in Constellation siamo lavorati insieme per la piece clean e ristore la che si fissi è bellissima adesso noi abbiamo ero l'unico città incita ...e un'altra parte personal. Tutte le modificazioni speciali, proprio come lui ha lasciato. Era il Consolazione del Consolazione circa 50 anni fa. De tutto, è il tuo. Ok, cool. C'è già un nugolo di ammiratori, oltre alla Durin-Fan, ok. Non c'è niente. Vendor. Perché non si vengono? Non c'è niente, ok? Non c'è niente. 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 niente. Quindi posso avere solo... un follower alla volta. Vabbè, allora, Sarah! Vectera, dai. Ah, ci siamo i nostri partneri in crime. Hai visto che c'era un artefacto su Vectera? C'era qualcosa di un shock a vedere Barretta prendendo qualcosa in serio. Mh. Mi sento che ho aspettato la mia vita per questo. La costellazione? Le artefatti? Questo non sembrava bello, non? Questo è tutto. La costellazione? Grazie a tutti.